È mia figlia. Non posso parlare della paternità nel suo complesso, ma in questo momento ha la più bella sensazione del mondo. È mia figlia. Devo prenderla, portarla in giro, parlarle. Vuoi andare fuori? Vuoi andare fuori? I miei figli mi fanno dare il giusto peso alle cose, perché quando torno a casa, a loro non importa se ho fatto una tripla doppia o se sono stato cacciato per massimo di falli nei primi tre minuti della partita. Sono solo il loro papà. Non gliene frega niente del resto, perciò quando sono a casa, faccio del mio meglio per essere il loro papà. Guarda, di che colore sono? Di che colore sono? Guarda, guarda, guarda. Devo provvedere a mia moglie, ai miei figli. È come un biscotto. Lo lasciamo quando lo prende? È una cosa a cui pensi di continuo. Vuoi essere il migliore in campo, vuoi essere il marito migliore, il padre migliore. Per me è una forma mentis. Evviva! Amo i miei figli, tutti e tre. Pretendo molto da loro, se devo essere sincero. Ovviamente mia figlia la fa più franca rispetto ai miei figli maschi. Giornata con la mia bambina! Non sbaglia mai, è la mia principessa.